Allora, domanda di Gianluca dell'altra volta, perché è importante il concetto della reference experience che sarebbe praticamente il fare esperienza, quindi è un concetto che si utilizza più che altro agli inizi, perché appunto agli inizi si tende a farsi sempre pare mentali, passa la ragazza e oh mio Dio non si fermerà mai, andrà male, starà aspettando il fidanzato, la sto disturbando e altre mille pare mentali, diciamo questo concetto della reference experience sarebbe il fatto di andare indipendentemente da tutte queste pepe mentali in modo da fare più esperienza possibile, quindi questa cosa è una cosa che si tende a utilizzare agli inizi, è una cosa molto utile per fare esperienza veloce, quindi perché è importante il concetto della reference experience, ci sono casi in cui non è importante perché appunto quando si iniziano a ottenere risultati si inizia a essere più selettivi e viene meno il concetto del fare esperienza, che però è quello che ti lancia in un sacco di avventure e situazioni interessanti. Va bene, quindi rispondiamo alla domanda di Gianluca, allora se non stai andando a letto con almeno una o due ragazze al mese, nuove, io ti direi di applicare questo concetto, quindi passa una ragazza, sei in dubbio perché tutte le varie pepe mentali che puoi farti, vai comunque, perché? Perché non hai un progresso di risultati che ti può giustificare il fatto di essere più selettivo, quindi guarda i risultati che hai avuto il mese scorso o anche magari i risultati che stai avendo negli ultimi mesi e lì hai la risposta, se stai avendo risultati con almeno una o due ragazze al mese, allora puoi dire ok, seleziono un po' di più, magari non ci vado perché effettivamente ho già un bagaglio di esperienza che mi fa vedere che effettivamente magari in quel caso non è bene andare, magari è meglio non andarci, quindi valuta bene che risultati hai avuto il mese scorso e applicalo o no questo concetto. In realtà è un problema anche per me sinceramente, lo dico apertamente, anche io mi trovo un sacco di volte, passa una ragazza e dico ma non ci vado, non ce lo voglio, ma perché ho un bagaglio di esperienza abbastanza grande che mi fa capire quando è bene andare, quando non è bene andare, però poi un sacco di volte quando invece magari sono in dubbio e non ce lo voglio, però vado lo stesso, un sacco di volte però capita invece che mi sbagliavo. Quindi dicevo che è un problema anche per me appunto, perché in realtà un sacco di volte vedo se la ragazza più che altro se è libera o se è occupata, infatti un sacco di volte vado magari al primo approccio e faccio istandate o magari faccio, mi ricordo c'è stato un po' di settimane fa, c'è stata una giornata che sono uscito tutto il giorno, ho fatto 4 approcci e 3 istandate, perché non sono andato da quelle che vedevo che diciamo c'era bassa possibilità di istandate, per chi non sa cosa è l'istandate, è un appuntamento istantaneo, quindi quando approccio un ragazzo di giorno, lei è libera, le cose stanno andando bene e poi andate subito a prendervi un caffè, a sedervi a qualche parte eccetera, 4 approcci e 3 istandate. Perché questo? Perché ho abbastanza esperienza per vederlo già da fuori se è libera o se è occupata, di conseguenza quando è occupata magari tendono ad andarci però delle volte poi bisogna saperlo gestire bene, quindi questa cosa poi rischia di sfociare in un diciamo essere troppo cauti e poi appunto si finisce per rimanere paralizzati. Comunque il discorso è se il mese scorso non si è andato a letto con una, due nuove ragazze, cancella fare la selezione e vai comunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.